An agrigento al Circolo Culturale Empedocleo, Giuseppe Adamo, presidente del Circolo, e Marika Gatto, preside del Liceo Classico e Musicale Empedocle, hanno presentato il calendario dei concerti mensili degli studenti del Liceo al Circolo. Come l'anno scorso è stato bellissimo stipulare una nuova convenzione con il Circolo Culturale Empedocleo e quindi iniziamo con i pomeriggi musicali. Il primo di essi sarà il giorno 30, che è giovedì, e a questo proposito vorrei dire che da quest'anno tutti i pomeriggi musicali si svolgeranno di giovedì, proprio per un'esigenza manifestata dai nostri docenti, ma anche dai nostri studenti. Quindi cambieremo giorno dal venerdì al giovedì. Sarà una stagione intensa, come quella dell'anno scorso, che riserverà tante sorprese e che soprattutto vedrà l'entusiasmo eccezionale dei nostri studenti, che, come ho detto tante altre volte, lavorano come dei veri professionisti, guidati naturalmente in maniera magistrale dai loro docenti, dai loro maestri. Quindi vi aspettiamo perché saranno delle occasioni sicuramente irrinunciabili per poter ascoltare della bellissima musica e anche per poter in qualche modo, come dire, essere tutti insieme nel cuore della città, che è questo bellissimo luogo. Siamo contenti di questa collaborazione che ha dato già dei buoni frutti l'anno scorso e condiamo che si ripetano quest'anno. Inizieremo il giorno 30 di questo mese, dopo domani, andremo avanti fino ad aprile, con un'esibizione mensile, poi chiaramente i vari appuntamenti saranno divulgati sui social e sulle chat. Con questo inizio praticamente siamo già in base avanzata con tutte le altre attività del circolo culturale in Bedocleo, che quest'anno si arricchirà anche di due novità, nel senso che ci saranno dei concerti di gruppi musicali del territorio e i concerti dei cori polifonici. Tutte le altre attività sono già riprese e condivano gradatamente a riprendere, come le lezioni di ballo, le serate danzanti, poi ci saranno ripreso il corso di filosofia. È in corso un'altra novità che è un corso sugli smartphone e poi in protezione di Agrigento Capitale della Cultura 2025 continueremo con i convegni sulla storia di Agrigento dalle sue origini ad oggi. Oggi pomeriggio alle 17.30, qua al circolo culturale in Bedocleo, terremo il terzo incontro del corso di filosofia medievale. È uno dei tanti appuntamenti del circolo in Bedocleo, sarà un appuntamento praticamente bimensile. L'anno scorso abbiamo svolto un corso sulla filosofia antica, quest'anno proseguiamo con la filosofia medievale, per cui incontreremo mille anni di storia della filosofia con grandi protagonisti come Sant'Agostino, Sant'Ommaso. Noi ci teniamo molto a questa attività, al circolo in Bedocleo, perché in un momento in cui si urla piuttosto che ragionare, noi vogliamo invitare la gente a incontrare i filosofi per imparare a ragionare con serenità e con logica.